Noi ci siamo, voglio dire questo. Noi, la Felisa Lab, non vi lasciamo mai. Perché dico queste due parole? Perché chi significa essere affidabili, essere presenti, essere vicino ai più deboli? Perché nel mese di agosto gli anziani, i bambini, sono quelli che hanno più bisogno. Per cui a Denisa Lab c'è, ma non c'è soltanto come presenza clinica e sanitaria, ma c'è anche un mondo buono.